Le condizioni di Soleil oggi non sono molto buone. Ha saltato il pranzo e ha dormito tutto il tempo. Katia va a svegliarla per capire come sta. Soleil si lava il viso con delle salviette imbevute e scambiano quattro chiacchiere. Katia le suggerisce di rimettersi in sesto e di andare a mangiare qualcosa. Soleil dopo essersi data un'occhiata dice Sto messa proprio male. Andiamo a prenderci un teneo proprio voglia. Le due si alzano e Katia le suggerisce di cambiare il letto anzi lo chiede a Davide visto che Soleil si è alzata cambiate le lenzuola. Soleil si sposta per la casa come una persona senza forze. Come quando si ha l'influenza e non si hanno le forze di affrontare la giornata. Si preparano il tè senza dire una parola. Soleil non si è ancora ripresa da chill che è accaduto ieri. Per lei questa è una nuova casa. Forse vede anche gli altri con occhi diversi. Si sta riadattando. Quelle che prima erano le nemiche ora la stanno confortando per mantenerla su come Jessica e Sophie. Soleil si era creata un muro dove dietro c'erano lei e Alex. Ora c'è solo lei e sta per uscire da quel muro. Canale YouTube Fabio Pecce.